Oggi ci teniamo particolarmente a partecipare anche perché noi come Andorra Race sappiamo quanto è difficile organizzare, quanto è difficile portare gente e creare queste belle manifestazioni. Quindi ha fatto piacere sia anche per me e per mia moglie che è ancora in gara, ma è andata in seconda posizione. Però dai, veniamo qua, essendo stati tutti e due agonisti, fin da piccolini, quando attacchiamo il numero diamo sempre il massimo, però vada come vada, oggi sono riuscito a vincere. Sono contento che ho migliorato il tempo di due anni fa a meno, ma dovrei aver migliorato di una trentina di secondi. E con lì il mio stimolo, migliorare sempre me stesso e non battere gli altri.